Il comune di Crevola d'Ossola sta battendo cassa sugli affitti per il centro Lapidio. Cosa succede? Succede questo, che nel 2014 il comune di Crevola d'Ossola, con un atto unilaterale, ha approvato un contratto d'affitto che prevedeva per il centro di servizi Lapidio il pagamento di un affitto di oltre 5.000 euro all'anno dal 2015 in avanti. Il problema è che questo atto non è mai stato approvato dai consigli di amministrazione della società. Ribadisco che qui fa parte anche il comune di Crevola d'Ossola. Ma il centro servizi Lapidio, qual è il suo stato di salute? Ma diciamo che dopo 3-4 anni di bilanci in passivo, quest'anno siamo riusciti a raggiungere un piccolo attivo di circa 2.000 euro, però in considerazione anche il fatto che poteva essere un po' più consistente se non avessimo già contonato una somma di circa 8.000 euro per quanto riguarda dei crediti inesegibili, cioè società che sono fallite e che non sappiamo se riusciamo a prendere i soldi che devono al centro di servizi Lapidio. Ecco, ma il numero delle cave è nettamente diminuito, quindi cosa fate in questo momento di attività? Ma da quello che ci risulta sono circa 13 cave attive sul nostro territorio a quelle che erano oltre 60 ai tempi in cui il settore tirava. Oggi questa crisi ha penalizzato soprattutto i settori dell'edilizia e il settore Lapidio è questo. Noi abbiamo, il centro servizi era nato per affiancare le società del Lapidio nel proporre nuove tecnologie e certificare materiale.